Ciò che non è a terra rischia di marcire nei prossimi giorni se non trattato con rapidi interventi da fare sui filari già da subito. Una delle stagioni più promettenti in termini di qualità delle produzioni e di quantità degli ultimi anni è andata persa in meno di un'ora. Lo ha detto il Presidente di Confagricoltura Nui Rogliastra, Michele Ena, dopo l'ultima perturbazione di questo agosto turbolento che si è verificata il 13 agosto. In meno di un'ora la grandine ha devastato vigne e olivetti nella Valle del Sologo, tra i territori di Lula, Galtellia e Dorgali, per spingersi verso l'interno fino a Onani e Bitti. Da una prima stima che si dovrà aggiornare nei prossimi giorni ci sarebbero danni tra il 20 e il 50%. Gli eventi ambientali gravi, ha dichiarato Michele Ena, sono in crescita esponenziale da alcuni decenni. E se non governati con strumenti adeguati, renderanno sempre più impossibile lo svolgimento delle attività agricole o allevatoriali in tutti i territori della Sardegna.